Ciao, in questo video vorrei rispondere ad una domanda che mi fate veramente spessissimo ad ogni mio tutorial mi viene chiesta questa cosa, ossia dove acquisto gli smalti con il pennellino sottile, questi che hanno non solo il pennellino sottile ma anche il pennino. Allora, nel box a fianco metterò il link del venditore da cui li compro perché io li li acquisto da ebay da un venditore del Regno Unito ed è uno stock di 60 smalti che costano circa 35€ quindi se fate i conti ogni smalto non costa nemmeno 60 centesimi e una cosa che mi viene chiesta anche è 1 se questi smalti arrivano intatti e 2 qual è la loro qualità se durano molto. Allora, per quanto riguarda i loro esseri intatti, devo dire che a me tutti i 60 sono arrivati in uno stato perfetto anche perché comunque arrivano in uno scatolo imballato quindi non ci sono problemi per quanto riguarda questo. Per quanto riguarda la qualità, beh sono degli smalti che sicuramente non durano una settimana, questo lo devo dire, durano un paio di giorni perché poi cominciano a scrossarsi diciamo così, però sono ottimi per chi ama come me cambiare gli smalti molto spesso, però vi ripeto una settimana non dura, per farlo durare una settimana ogni tanto comunque bisogna ripassare, aggiustare ciò che si rovina. Poi invece un'altra cosa che mi viene chiesta è dove acquisto questi altri tipi di smalto, questi della Kiss Nail Art che invece hanno soltanto il pennellino sottile, quindi senza il pennino. questi li compro nella profumeria Estasi, a chi è delle mie zone ho già detto che questa profumeria l'ho trovata nel centro commerciale Apollo, per chi non è delle mie zone invece deve cercare questa profumeria Estasi perché io in altre profumerie non le ho trovate, magari sicuramente nelle grandi città li troverete anche da altre parti. questi smalti costano circa 7€, ho trovato solo il color bianco, nero, giallo, argento e dorato, quindi non c'è questa vasta scelta, mentre invece come sapete di questi ci sono veramente tutti i colori, tutte le tonalità e non ci sono solo quelli opachi ma anche quelli con i brillantini, quindi spero che vi sia utile questo video perché comunque veramente, ripeto, è una domanda che mi viene fatta ad ogni tutorial e quindi questo e ci vediamo al prossimo video, ciao!